Grazie. Non esce, non esce, non la sto buttando fuori io, la sto tagliando se mi sto mettendo, perché non è da te, non è da te, stai tesi, più sciolto, più tranquillo, forse, gira, ti faccio girare. Ah sì, ti devo aspettare. Uh, toccata, uh, vai, chiudi, chiudi, uh, ho visto che girello, non abbiamo parlato di sto girello, no? Tiro, eh? Lo girello l'ho visto. Io come posso esprimermi? Sta giocando il mio maestro, è il figlio di un mio amico, come faccio a esprimermi? Sei imparziale. Dovresti apprezzare? Sì, sì, lo sto apprezzando, infatti. Sei imparziale. Vai. Miniatura a terra, si sta fermi, no? Grazie. 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 ti stavo confrontando per il paratone che hai fatto forse non si è accorto bella bella prendite la distanza chiedono maratone spettacolare scende sulla faccia sì fuori settore no perché tu stavi di là ciao gianco salute grazie Ma che uscita che ho fatto! No, devo prendere quattro dita. Vabbè, lascia, guarda. Ho giocato dall'altra parte. Angolo. Angolo? Si, si. Angolo ho rimesso. Angolo. Non lo so io. Stavo aspettando se fosse o non fosse. Vai. No. Questa scelta un'altra parte. Che per un gol, non gol, non vista moffetta, c'è solo Casini. Poi invece era quello. Mi fece vedere proprio il video, ci ha bisogno anche per il video. Io tengo quattro occhi. Automatiche. E ora? Tutti coperti. Tutti coperti stanno, no? Ma seguiste? Arriva. Devevi non fare così, che quelle sono qui, al portiere. E dove fai? Fai mangiare i due pandori. Si. Il pomeriggio, le cinque. No. Lui cosa viene alle 10? Si. Il giampiero. Tell me back. Tell me back. Eh. Close. Allora. Scusami. Cameraman. Ma veramente. Ma questo campionato, eh? Si. Campionato. L'ho detto che ho tutte le famiglie. Ho tutta la famiglia. Ho una grossa riforza a vivere. Non era voluto, eh? No. Perché hai interrotto un lancio. Allora. 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 Buon gioco. Allora. E dove batto? Da qua. Ho detto che io sono albito. Albito? Ciccose. 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 Scano. Scano. Espeliamo. Che domenica puoi segnare. Maga. Maga. Sella con chi può stare? Con un cavallo, no? Speroni. Non direi che guardi. Non ci sta qui l'amore del presidente. Ciccose. 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 Ciccose.